Il progetto è assolutamente aperto, ovvero deve essere aperto, ogni giorno che passa si scoprono cose nuove che si potrebbero fare e sarebbe assolutamente sciocco dire non l'abbiamo messo all'inizio per cui non le facciamo, invece no, si scoprono cose che hanno valore e quindi il progetto deve rimanere aperto per tutti i contributi che vengono. Direi che è stata molto intelligente l'idea di mettere diverse componenti, cioè tutte le dieci componenti si sviluppano e si integrano tra di loro, cioè non sono silos che non dialogano invece dialogano molto, infatti si vede che molti progetti diventano incrociati tra due o tre magari anche quattro di queste colonne e questo è un dato molto importante, più complesso dal punto di vista della gestione ma certamente dà molti più risultati per quello che riguarda quello che succede regolarmente. Dal punto di vista economico vedete abbiamo fatto un discreto passo avanti, direi che rispettiamo sono cinque anni di progetto, quindi gli stanziamenti sono stati fatti in accordo ai cinque anni e sono già tutti quanti impegnati, quindi su questo siamo molto contenti, che vuol dire che c'è obiettivamente il modo per poter prendere i fondi. C'è stata molta partecipazione di pubblico, pubblico vuol dire associazioni, commercianti, cittadini, moltissimi hanno partecipato, questo forse è il dato più positivo perché non è un progetto che viene cascato dall'alto, è un progetto che veramente nasce da tutti e questo è una cosa secondo me che ha tantissimo valore perché è già metà del successo, forse anche di più della metà. Sono 137 milioni di euro su cui già un 20% è stato coperto, stanziato nei primi sette mesi, c'è dieci macrovoci su cui stiamo lavorando, tutte già cominciate, c'è dieci macrovoci su cui soprattutto si è lavorato sulla parte sociale, sulla parte commercio, sulla parte sicurezza, sulla parte della pulizia. Un modo soprattutto anche per far sentire che l'amministrazione pubblica vuole essere presente anche fisicamente sul territorio del nostro centro storico e voglio ribadirlo un piano aperto, quindi per questi 5 anni anche nuove progettualità ci sono ben ben gradite e ci siamo ovviamente con la piena condivisione col territorio sia con chi ci lavora sia con chi fa anche parte di una rete di realtà che del volontariato fanno parte del nostro centro storico, un modo ripeto per far sì che nuovamente nei 5 anni il centro storico torni con l'essere un luogo dove vivere, dove lavorare e dove anche trascurre nel tempo libero.